Purtroppo ieri sera intorno a mezzanotte si è consumata una tragedia familiare a seguito evidentemente di un violento arterico un figlio 49enne che conviveva con il proprio padre, 82enne lo ha colpito violentemente con diverse colitellate al torace e in diverse altre parti del corpo tanto da provocarne la morte che è avvenuta intorno alle 4 di stamane in un ospedale di Teramo l'intervento dei carabinieri è seguito alla telefonata dell'omicida il quale ha chiamato il 118 e ha chiesto che si intervenisse perché andassimo a prenderlo e perché aveva poco prima ucciso il proprio genitore Sulle motivazioni sono in corso degli approfondimenti il dato oggettivo è che non ci risultano pregresse denunce né siamo mai intervenuti per pregressi episodi di violenza nell'ambito familiare il nucleo familiare era composto appunto dal padre 82enne e dal figlio 49enne che stava ancora terminando il proprio percorso universitario grazie a tutti grazie a tutti